benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su new super mario bros you ovviamente in compagnia di mio padre ciao allora nello scorso episodio abbiamo visto infatti questo sarebbe proprio il proseguo diciamo il proseguo dell'episodio questi tre livelli difficilissimi ricordi veramente difficili speriamo che comunque ecco la già vedo non ci ho fatto caso l'altra volta ma vedo una casa di fantasmi e sinceramente ho un po di paura ma comunque quello vuoi fare quello in alto o quelli in basso in basso questa volta ho fatto tutto in due secondi però io non ho capito niente dove stavo i casi sei rimasto là e poi non puoi tenere altri oggetti cosa togliamo cosa vuoi togliere quelle che ci stanno due ghiaccio forse e di stelle che fanno le stelle ci danno super velocità tipo può uccidere tutto tipo mario kart però non servono quasi niente però si tanto abbiamo un'altra stella infatti due stelle abbiamo quindi quello non lo prendiamo per niente tanto ne abbiamo già due e poi non possiamo prendere niente la tessina verna delle salate di gelbi di nuovo ok io sono piccolo cavolo mi sorprendono sempre di 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 vedere goce se ho capito ma non è che paura io mi sono capito ma non è che paura oh che cosa vado a dio oh oh e dai ho fatto da testa oh attenzione io me ne sto scappando ma quelle non cadono non ho quelle con gli azzurini ma io ti togli voglio provare a fare una cosa io sto a saltare ma non mi salta ecco, guarda, dice qualcosa io sono su io sono su, guarda perfetto, guarda quel bel oltre a quello no, perché non brucia quello? perché questo fa il colpire perché c'è il guscio? no, no, non ci voglio più no, è simpatica però, cavolo papà ok, perfetto perché hai buttato quel coso? pensavo che non ti faceva del male ma lo sai che il guscio ti spapaggia? allora, c'è una cosa utilizziamo questo grande noi siamo già grati e prendiamo questo in modo che se un giorno ci servirà se l'abbiamo mi hai fregato ma io non volevo farlo mica a posta io ho già mito le difficoltà che scivolo non c'ho le gomme chiudate beh, anch'io in realtà pensavo veramente di essere cioè, mi pensavo di essere più brava perché prima ci giocavo veramente no, ma è che scivola proprio io scivolo allora, stai sì, ma anch'io scivolo veramente tanto ok adesso cerchiamo di farcelo dire cerchiamo di gascare neanche ve l'ho detto io stavo dicendo cerchiamo di farcelo volare lo sai? veramente così attenzia attendo a questo con il guscio no, ma vuoi tirare il guscio per favore wow, è tornato indietro perché è sbattuto vai, prendi quello ah, già ce l'hai? sì, però oh cavolo oh attenzione vai ma dai, ma scivola troppo aspetta scivola troppo aspetta fallen Victoria ecco che l'ha presso scivola troppo non si ferma aspetta vieni con me eh sì proprio così e poi facciamo schifo no perchè quello se n'è andato attenzione era mio che stavi con me era meglio comunque wow ti ha sghiacciato lui vieni ti faccio saltare sei sicura? si si ma si riesce aspetta qua infatti un attimo che comunque sono morta più forte io perchè io ho 16 vite e tu ne hai 23 ok presa possiamo andarcene questo livello mi sta facendo eh ma è troppo difficile no non ci riesco no caspita che barbatruccolo aspetta forse qui c'è qualcosa no caspiterina non è possibile ogni volta che ti casco sopra attenzione non so come lo stiamo facendo non ci sto a capire niente aspetta aspetta fa casca questi faccio pure a quello grande aspetta prendi guarda che due rimbambiti guarda che due rimbambiti uno torna attenzione vai no attenzione cioè non ho mai pensato nooo forse c'era un easter egg ah infatti ma io dove sono perchè sono morta aspetta vediamo questo è quello che è quello più basso vediamo aspetta di sotto vai ah ok e no devi venire qui vai eccolo ok vai tu so ok vai prendilo perfetto ora vabbè io aspetta vabbè ah ti potete appasaltare no no in modo appasaltare ti potete appasaltare no non mi importa comunque un altro livello a fatica ce l'abbiamo qua è stata dura eh in effetti questo mondo è veramente esfermante vogliamo mi fa romare i diti infatti pure a me vogliamo continuare con la casa dei fantasmi o vogliamo provare a fare l'altro livello facciamo un altro livello e poi andremo poi prima vediamo intanto questa cazzetta ok questi vabbè sappiamo più o meno come funziona io penso a quello d'oro che devo fai devi prendere uno di quelli bello no no basta che lo prendo no no che abbiamo avuto ah ok perfetto bella vincita no tu hai preso quello rosso quello blu ok ok almeno mannaggia e vabbè sono sempre bovosto è quel ghiaccio no io sì io direi che questo è appunto tanto non ci serve proprio per forza io intanto direi in realtà di darci un aiutino a questo punto prendiamo proprio questo di ghiaccio che già ce l'abbiamo perché sennò veramente ci diamo una di tino sali scendi e cannoni e questa cosa non mi piace oh tutti stanno morendo ecco ci danno proprio questi che già abbiamo e abbiamo fatto bene allora là c'è qualcosa secondo me dove? allora qua non so se è una truffa qua ci stanno facendo salire vieni un po' ma come li prendo questi? uno no non li prendi ah uno e vieni vieni qui ho sblocato qualcosa aspetta ah già ehi vieni un po' oh prendi ok un qualcosa di segreto direi ok ok perfetto oh 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 perfetto siamo alla seconda mamma mia carini carine con cosa più facile perché eh sì moltissimo no no non voglio non prendiamo perché è più difficile io che faccio? così ah ok ok attenzione qui attenzione che è ormai è andata che cavolo è successo? non lo so spariti attenzione attenzione che sparisce aspetta quindi devo saltare va già eh sì vai ti faccio salire vai vai ok oh ok oddio siamo scontrati insieme vai attenzione prendi prendi vai vai oh che cosa ci dà? ah prendi l'appo prendi l'appo vado eh si oddio what? che belva infatti ci fa anche saltare veramente tanto wow no infatti potevi girare porca miseria perfetto però ci siamo riusciti eh beh anche questo livello abbastanza faticoso devo dire però alla fine ne è forza la pena infatti perché siamo riusciti a terminare con quello di ghiaccio bene allora io direi di finire in bellezza con la casa dei fantasmi tututututu la casa barcollante dei fantasmi eeeh qua ma c'è un no qui si muove anche che cosa? ti dico si muove la scenografia vedi io direi di prendere il fuoco qui non so che cosa sia aspetta wow vai 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 dove siamo entra entra e quella stella? non lo so la potremmo prendere no? infatti pensavo che potremmo forse forse usciamo a prenderla no non ci voglio credere andiamo su o giù? su o giù? come ti pare qui ti dice di fare la freccia ma io direi di non da dire mangiare la pia vai e voglio entrare sotto ma così riesco oh prendi prendi oh dove va questo? no cavoletti attenzione al fantasma l'ho visto ok qui c'è un altro di questi attenzione prendite le due sotto il giù ok scondate perfetto ok quindi quella sotto non era particolarmente importante a quanto quale pensavo che non darvi retta sarebbe stata una buona idea ma in realtà non ha cambiato nulla eh difficile allora andiamo su vai entrando ok attenzione ok prendi questo qua quello che l'altro? si vieni prima qui no ma perché hai spondato? attenta tavolo oh no infatti avevo paura di farlo io ma in realtà ok sono entrata qui perché volevo diciamo una stupidata una stronzata dove sei tu? boh ok attenzione tienilo sempre d'occhio si si no non mi hai fatto saltare ma non vedi dai no no ma adesso non ci posso ma dai ma lo non c'è c'è non ci voglio credo stiamo facendo schifo questo livello che mi piace fa ma io si 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 è andato sotto io nemmeno mi sono visto io non ci voglio che non mi sono nemmeno visto dove perché facciamo schifo attenzione ma perché sei salto sotto no non ci posso credere così ma perché sei salto sotto non lo so ma ho fatto schifo eh io si riprovo e riteniamo qui dentro di nuovo siamo pronti ora rivivi portentosamente e andiamo avanti con questa stupidata noia ci diamo tutti vieni vieni vai basta mi sono schifato non ce ne faccio più oh ci ho fatta almeno a prendere la seconda ci siamo riusciti vabbè ora perché io parto subito aspetta aspettami no no cavolo perché ti aspettami aspetta ho un'idea forse questo non è tanto vero ah no e va bene no aspetta aspetta vediamo se ci forza non aspetta ho un'idea forse aspetta aspetta non muoverti vai prende quello se ce la fai oh e io sto a vedere a te cavoletti attenta attenta che sale ah ok allora forse qui no allora dobbiamo forza di entrare qua dentro niente è finta là sopra vai secondo me deve uscire qualcosa a questo punto del drogativo vedi un po' se uscire qualcosa qua aspetta non è disposta no niente ma perché e che ci sta aspetta vieni qui insieme a me e vai forse si prende molto queste monete no ma nemmeno la sponda sopra wow che è successo lo stai a vedere no si è stato al pavimento sotto di me wow wow cosa abbiamo scoperto all'ultimo comunque abbiamo 190 secondi non tantissimo e infatti stiamo cosa cioè come non so vado parliamo qua si cos'è che chi è rientrato tu si ma vai quindi devi entrare alla porta non so cosa stiamo facendo con tutte queste e io non ci sto a calare ecco perché si chiama la casa di fantasma non entrare ah ok questa è la finta diciamo mannaggia è un po' dice di adonare di qua oh eccola ecco quindi quelle cose sbloccano qualcosa di nascosto ecco perché sì ma è difficilissimo ci dice sopra oddio ma sale avrei su e no io sto qua oh cosa gigante vai vai vieni dobbiamo saltare insieme se no non funziona oddio oddio cos'è dai fatti entrare signore oddio oddio quello che dice ti ha ucciso siamo usciti questa cosa mi consola ma non tanto ok attenzione a cortizie prendi prendi no ma guarda non voglio salire perché sennò tu non puoi ti aspetto di rinasci vai ok vai ti faccio salire vai 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 anche se sono in basso non importa ok e devo dire che questo mondo è veramente impossibile molto particolare mi è piaciuto tantissimo infatti molto particolare e sinceramente molto e anzi troppo difficile però comunque vediamo che nel prossimo episodio facciamo l'ultimo livello di questo mondo che ci liberiamo sarebbe pure del castello esatto ti vedo già che quella è una femmina come tutte le robe varie quindi poi nel prossimo episodio scoprivo comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti